Ospite di numerosi network televisivi e radiofonici statunitensi, Mark Anthony annovera tra le sue tante esperienze alcuni interessanti duoli in film hollywoodiani, tra cui Hackers, 1995, dove recita la parte di un giovane agente segreto, Big Night, 1996, dove è un timido aiuto cuoco, e The Substitute, 1996, nelle vesti di un giovane ribelle che impara la dura lezione della vita. In seguito ha interpretato il ruolo di Noel in Bringing Out the Dead, film di Martin Scorsese, dove recita a fianco di Nicolas Cage, Tom Sismo e Patricia Arquette. Altra esperienza è Broadway. Oltre ad aver lavorato con Ruben Blades e Ednita Nazario, Mark ha infatti recitato in The Cape Man di Paul Simon. Scopri di più su Mark Anthony in un nuovo episodio della storia della musica, disponibile su Keratium PC Podcast e Symphonic Musical Soul.